Secondo me c'hanno una pista. Come? L'ho visto salire su dal commissario, quello nuovo, no? Quello che ha preso una camera da grazia all'albergo Roma. Per me hanno messo gli occhi addosso su qualcuno. Cioè? Eh, cioè... Beh, si può capirlo. Beh, to' lei che riparte, perché qui se qualcuno può far saltare il tappo, hai voglia delle persone che ci vanno di mezzo. Per lei è sempre aperto. La solita ripassatina? Sì. Certo. Mi dia il cappello. Hai sentito la povera Gemma Foresi? Eh sì, l'ho sentito, dottor. Ma lei che abbia perso il bambino, così mi ha detto che eri nei battagli. Eh, sono dolori nella vita, dottor. Certo, sì, sono cose che dispiacciono. E' che se a me fa pena lui. Per il povero professor Bagnozzi. Eh. Ah, ma l'hai più visto il trozzo incomodo, Vittoni? Buonasera. Ah, senta, a proposito, tu. Quella cosa mi ha dato l'altra volta, come si chiamava? Ma adesso non me lo ricordo.